Mi chiama Ottavio Vinci, ho 74 anni, di genoni, il problema è che ero rimasto senza denti, quindi dovevo cambiare tutto, avevo una protesi mobile e quindi frugando nel computer, girando, ho visto la pubblicità, con l'intervento sono andato molto bene, quindi ho risolto il mio problema per i denti, ho fatto la protesi sopra e sotto fissa e adesso vediamo quel risultato finale con i denti fissi, con i denti permanenti. Dopo il primo intervento io ho ricominciato a mangiare normale, non mi cadeva più le protesi perché prima saliva scendeva ed era un fastidio quando uno mangiava e adesso invece sono abbastanza, mangio abbastanza bene, o molto bene diciamo, più che abbastanza. Allora io dopo l'intervento non ho avuto nessun problema, niente, né dolori e né nulla, nessun fastidio. Io dal punto sociale mi sento molto sicuro in confronto a prima, ripeto. La clinica è bellissima come realizzata, il personale, perlomeno quello che ho frequentato io, sono bravissimi, molto umani, bravissimi nella loro specializzazione, sia il protesista, sia il chirurgo, sia l'aiutante del protesista che è molto bravo alla stessa cosa. Io mi sono trovato benissimo su tutto, non devo dire che sono stato assistito abbastanza bene, molto bene, certo, la raccomanderei agli amici, ai conoscenti, a chi incontrerò per strada perché, ripeto, io mi sono trovato bene, quindi non devo fare altro solo che poterla raccomandare a chi intende fare altri lavori.